Da gennaio 2017, tra pochi giorni, quindi la nuova partecipata del Comune di Fano, nata dalla fusione per inglobazione di Aset Holding in Aset Spa, sarà effettiva. Ieri sera, davanti al nottaio, i due CDA, alla presenza del primo cittadino di Fano, hanno eseguito l'ultimo atto necessario per chiudere il procedimento, rimanendo così nei tempi ipotizzati da questa amministrazione per concludere questa fusione che ha portato con sé numerosi episodi di contrasto politico e ideologico ed animati consigli comunali dove opposizione e anche consiglieri di maggioranza non hanno risparmiato la giunta da accesi dibattiti. Ieri ci sono state dal notaio sia di Aset Spa che di Aset Holding e hanno entrambe approvato il progetto di fusione. Quindi a tutti gli effetti si è concluso l'iter della fusione, ci sono tutte le pubblicazioni. La fusione, come ho già avuto modo di dire, partirà a decorrere dal 1 gennaio 2017 anche se operativamente, anche con la nuova governance, sarà dai primi di marzo. Quella che si accinge ad accogliere la Holding è un Aset in ottima salute e tiene orgogliosamente a precisare Lucia Capodagli nella conferenza stampa di fine anno questa mattina nella quale sono stati snocciolati tutti i dati relativi all'anno che ci lasceremo alle spalle tra poche ore. Sul piano della raccolta differenziata 11 comuni su 13 di quelli serviti da Aset avranno un'ecotassa ridotta avendo superato la quota del 65% e Fano si attesta ben oltre il 70%. Le tariffe domestiche applicate inoltre sono tra le più basse della media italiana 125 euro annui per un componente in 60 metri quadrati contro i 157 euro del centro Italia i 165 al sud e i 123 al nord. Sfide per il 2017, qualche progetto lo avrete nel cassetto immagino? Sì, ci sono nuovi progetti importanti che sono quelli degli scolmatori a mare nella zona Sassonia e quello è un progetto molto importante per la città perché garantirà per i prossimi anni il mantenimento della bandiera blu e sicuramente una fruibilità di balneazione di tutto il lungomare migliore. Questo potrà provocare dei disagi durante la stagione estiva del 2017 ma poi aprirà nuove possibilità e sicuramente un migliore utilizzo e una balneabilità migliore per tutto il futuro. A seguito di una politica di investimenti e di sensibilizzazione pubblica secondo una approfondita ricerca condotta dall'Università di Urbino su un capillare e variegato panel di riferimento l'83% dei clienti domestici è soddisfatta del servizio contro solo un 66% del 2014 e l'82% considera Fano una città pulita mentre tra i clienti non domestici questa percentuale schizza al 92%